Oroscopo Gemelli 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 Cercate di recuperare la credibilità presso gli altri, ripristinate il giusto rapporto con colleghi, amici e parenti e godetevi poi la serata in pace. Vi aspetta una serata con molte soddisfazioni alcune delle quali potrebbero essere davvero particolarmente piacevoli. 8. Oggi evitate le persone moleste e quelle che amano sparlare degli altri, in questo modo non solo farete capire di non essere disponibili per inutili pettegolezzi ma prenderete le distanze da persone il cui fine ultimo è mettere in imbrazzo gli altri. 9. Mantenete sempre un atteggiamento disponibile e equilibrato in amore, per evitare battibecchi e dissapori. Cercate di non giocare troppo con i sentimenti delle persone in questa giornata, potrebbero ripagarvi con la stessa moneta, proprio quando smetterete di giocare e vi accorgerete troppo tardi di aver perso qualcosa di importante. 10. Non sempre si può procedere con calma e a rallentatore come vorreste, soprattutto al lavoro, c'è bisogno di dinamismo. Le vostre idee ultimamente peccano di banalità e se fate un lavoro creativo appunto, potrebbe costituire un grosso problema, al quale dovete immediatamente rimediare. 11. Giornata dicembrina con alti e bassi in cui però vi sapete districare che è una meraviglia. A proteggervi sono ci sono Luna e Saturno, la prima dal fidato alleato Leone, il secondo dall'amico Aquario. Entrambi vi donano intuito e grande capacità di voltare a vostro vantaggio le situazioni. In special modo se siete nati nella terza decade. Marte sportivo nel segno vi mette l'argento vivo addosso, in perfetta sintonia con la luna focosa e Leone e con il sole caldo e generoso anche all'opposizione in sagittario. Frenata solo da Saturno, intellettuale e moderato, contrario alle mode e alle manifestazioni emotive fuori controllo. A questo proprio dovrebbe servirvi la palestra, tonificare i muscoli, ma fate fare ginnastica anche alla mente in modo tale da renderla capace di sopportare le inevitabili variazioni di clima ambientale ed emotivo. Non potete saltar su come diavoletti dal barattolo e mordere ogni volta che qualcosa non vi garba. Amore ed Eros. Amore è un parolone, ma se cambiate vocabolo utilizzando passione ci si può ben capire. Importante è chiarire i termini e anche i sentimenti, ecco il messaggio della luna in se stile, bersagliata a sua volta da Saturno preciso e ipercritico, maniaco dei dettagli. Chiarimento fondamentale non solo col partner, ma con tutti coloro con i quali ultimamente avete da ridire, scontrandovi sul difficile terreno degli ideali, in particolare le persone più vicine con cui siete costretti a vivere gomito a gomito, siano essi amici, parenti o colleghi. Salvaguardare l'armonia in questo momento storico è più importante che salvare opinioni e ideali, quelli in ogni caso non ve li porterà via nessuno, sono e saranno sempre soltanto vostri. Le strade più semplici da percorrere non è detto che siano le migliori, forse quelli che sembrano essere percorsi impervi, sono proprio i tragitti che conducono più lontano e più in alto. Una forte intesa dei sensi vi lega con una persona conosciuta da poco e che sta diventando sempre più rilevante nella vostra vita. Non sottovalutatela. Sappiate muovervi con circospezione in serata, quando il sole dissonante per il vostro segno, dal nemico amatissimo sagittario, può porvi qualche inciampo. Grandi successi per i single di giugno che amano provarsi in avventure. Lavoro e denaro. Tutto fare velocissimi, forse perché di lavoro non ne potete proprio più e detto dopo un ponte lungo 4 o 5 giorni fa quasi ridere, ma considerato tutto questo pesantissimo anno sulle spalle non vi si può certo criticare, la vostra è un'opinione condivisa. Benone gli affari, in via di risoluzione anche gli accordi riguardo a progetti da sviluppare l'anno prossimo. Detta così sempre lontanissimo, in realtà tempo poco più di due settimane sarà già quotidianità. Nervosi in auto ma anche sui mezzi pubblici, troppo affollati, a rischio virus, non si dice ma. Si sa. A Santa Ducia, osserviamo i colori del segno in base alle sue caratteristiche stagionali, per i gemelli la tarda primavera, e i pianeti che lo governano. I variegati toni del giallo, in particolare il giallo limone, insieme all'arancio, alle fredde gradazioni verde acido, ma anche il rosa salmone, il senape, il blu elettrico, questi i colori del segno, perché il giocoso, volatile mercurio, pianeta dei gemelli, ama confondere piste, aprire nuove strade cromatiche, esprimere la fresca gaiezza. Plutone esalta l'attrattiva verso l'insolito, il fascino dell'esibizione creatrice calcando le scene con tinte fluorescenti. Benessere. Tranquilli, energici come sete potete sentirvi in una botte di ferro, perfino virus e batteri vedendovi così agguerriti scappano nella direzione opposta. Se un aggiustamento alle lenti o agli occhiali va fatto prenotate una visita oculistica, dopo i 40 qualche problemino si affaccia all'orizzonte e se vi capita di incespicare spesso non date sempre la colpa alla digestione, magari la vista si sta sballando un po' o c'è un principio di cataratta. Ti impegni spesso in situazioni in cui qualcun altro ne trae vantaggio chiediti invece di cosa hai veramente bisogno. Quando si tratta di ciò che si mangia, è consigliabile dare al tratto intestinale una pausa dal pane e dai latticini. Per lei, parole illuminanti che purtroppo non avete ascoltato per tempo, ecco la ragione dei guai in cui vi ritrovate immerse oggi. La saggezza al femminile non va sottovalutata, specie quando è nutrita alle spalle da una solida tradizione. Per lui, ambiente umano simpatico, chiudendo gli occhi sul cementaccio che soffoca la natura nelle città, sempre più suolo smangiato a favore del mercato immobiliare, ciò nonostante la gente che vi gravita attorno a un animo verde come le piante. Tutti d'accordo a un ritorno alla natura, anche se il profitto è destinato a perdere colpi. Tutto non si può avere. E allora scegliete il meglio. Colore delle emozioni, rosso pomodoro. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.